Con 13.527 preferenze, una percentuale pari al 69,8%, Nicola Bonanno è il nuovo sindaco di Caltagirone, avendola meglio su Alessandra Foti, candidato del PD, sostenuta da PSI e SEL, che si è fermata a 3.655 voti, percentuale del 30,92%. Una vittoria schiacciante dunque che non lascia attenuanti. A Caltagirone vinge la serietà, vinge anche se vogliamo l'equilibrio e vinge quel blocco moderato dei caltagironesi. Una grande e straordinaria vittoria a Caltagirone dopo 19 anni di centro-sinistra. Abbiamo archiviato tutti quelli che erano gli estremismi, di destra e di sinistra, per dare alla città un'amministrazione nuova, moderna, che sarà all'altezza del proprio compito. Questi i primi commenti a caldo raccolti dal nuovo sindaco non appena giunta la notizia della sua elezione. Una sensazione bellissima, una sensazione stupenda, la liberazione di una città. Grazie a tutti i cittadini che mi hanno salvato una città, grazie a tutti. Questo è quando le scelte partono dalla gente e non dalle segreterie, ci sono questi risultati, sono bellissimi, volute dalla gente e non dalle segreterie, questo è l'importante, la gente lo ha risposto così. Dobbiamo ricostruire adesso tutti insieme, non ci sono avversari, non ci sono nemici, ci sono tutti insieme a ricostruire nuovamente una città che è scesa troppo in basso, adesso dobbiamo solo ricostruire.